Edizione straordinaria di Superclassifiche Show da Enna, qui, 1100 metri, sono sempre 1100 metri, giuro, l'ho controllato appena arrivato perché era una cosa... Ecco, chi interviene è Marcella che è di queste parti. Perché oggi abbiamo parlato appunto dell'altezza che ci sembrava troppo alto, 1100 metri. Qualcuno diceva 600 metri, altri 900 metri. Invece stasera col freschino che fa... 1100 metri, lei sembra infatti una scesa proprio da 3000 metri, lo chiamano cioccolato per l'estate. Cioccolatino. Marcella che è di casa, perché lei sta a 100 km da qui, no? Sì, è a Catania, sono nata a Catania. Gioca in casa, con il favore del pubblico che è numerosissimo, in grande attesa di sentire Marcella che... E tutti gli altri. E tutti gli altri. In questo momento sta aspettando Marcella che sta sfoderando il suo nuovo LP. Sì, un LP che è appena uscito, quindi è nuovissimo, un LP che mi sta dando tante soddisfazioni. Come si intitola questo LP? Si intitola Problemi, che è un po' il titolo del 45 giri diciamo. Problemi risolti però. Sì, però oltre a Problemi ci sono altri pezzi che io vorrei far conoscere perché meritano di essere ascoltati. Infatti tirerò fuori un altro 45 giri in autunno. Cioè da un 33, due 45 giri. Sì, perché ci sono delle canzoni stupende. Lo sfrutti proprio, lo stupende. Tu sai che è nata questa collaborazione con Gianni Bella Mogol. È tutta una grande famiglia ormai. Gianni Bella Mogol, poi c'è anche Mario Lavezzi, coproduttore di questo Home Plane. I testi l'ha scritto in Mogol. Diciamo che ha un po' preso il meglio, ha focalizzato, ha cercato di focalizzare il meglio di me come donna e l'ha scritto in verso. Cioè sei proprio veramente in risalto, sei tu scoperta da Mogol. Sì, diciamo che poi è la prima volta che scrive per una donna forse, mi sembra. Sì, sì, ma forse sei ispirata ai capelli. Perché i capelli? Battisti aveva un po' i capelli così una volta. Aveva questo cespuglione qui. Mi ha sempre capiato questo ragazzo. Ha sempre avuto la tua pettinatura, Battisti, hai visto? Ora, Marcella con la pettinatura di Battisti e i testi di Mogol, adesso partirà per due pezzi. Il primo? Il primo è un anno in più. E il secondo, che è poi quello dell'album, Problemi. Non ci sono problemi. Un anno in più, insieme a te, banale o no, comunque è, vissuto in due, fra bassi e altissimi. Un po' provati e ritrovati, ancora veri, ancora noi, un anno ancora e tu. Rinasci qui, nell'anima, la tua onestà è limpida, irreversibile. E ti ringrazio per la scelta che è caduta su di me. Tu per me, sei la parte migliore di me. Tu per me, sei la fonte che non sazia mai. Tu per me, sei l'ossigeno puro perché, senza te, non sarei più Dio, non sarei più Dio. Un anno in più, qualcosa in più, la libertà di andarsene, di perdersi per un millesimo. La paura di pensare che sia vero è tutto ciò. Tu per me, sei la parte migliore di me. Tu per me, sei l'ossigeno puro perché, senza te, non sarei più Dio. Non sarei più Dio, non sarei più Dio, non sarei più Dio. C'è tanto in più, e ancora noi, bianchissimi. Un mondo che, cambiato è, ma inseparabili, come il frumento con il vento che lo sfide e non va giù.